Cari amici e cari amiche che avete un sito con WordPress, questo è il video che fa per voi. Perché WordPress è proprio la classica cosa che hanno tutti, sembrerebbe che sanno usare tutti, ma poi ci sono una serie di errorini che fanno tutti e dei quali non ci si rende conto. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare in questo video, perché vi vogliamo accompagnare dall'essere degli utilizzatori standard di WordPress, quelli un po' al mio cugino, a diventare degli utilizzatori semiprofessionali, per non dire professionali che forse un pochino troppo per lo scopo di questo tutorial. Ma non lo facciamo da soli, perché io sì, di WordPress me ne intendo, ma ho deciso di portarvi il top, la creme della creme. Voglio farvi spiegare qualcosa da chi con WordPress ci lavora tutti i giorni, ormai da diversi anni. E allora siamo qui con Daniele Besana. Ciao caro Daniele. Ciao Andrea, un saluto a tutti. Daniele Besana, WPOK, che è un servizio proprio che lavora con WordPress, ed è questo il motivo per cui chiediamo a te di farci questa presentazione, di raccontarci quali sono gli errori più comuni che tu trovi durante il tuo lavoro e che ormai conosci benissimo e che creano magari a chi ha dei siti, dei grattacapi abbastanza seri e che poi in qualche maniera a volte tu ti trovi anche a dover risolvere con il tuo lavoro di tutti i giorni. Prima di cominciare, guardiamo un po' le coordinate di questa guida completa. Che cosa imparerete? Imparerete a usare meglio WordPress, imparerete ad evitare i problemi più comuni che ci possono essere con WordPress, imparerete a migliorare le prestazioni del vostro sito web e passerete da essere degli utilizzatori dilettanti di WordPress ad essere degli utilizzatori professionisti. Se già siete degli utilizzatori professionisti di WordPress, beh, questo credo che sia un ottimo ripasso. Dovete già conoscere alcune cose, nel senso che parleremo di WordPress tralasciando, dando per scontato che almeno le basi minime le abbiate, che sappiate che cos'è WordPress, che lo abbiate già installato su un sito web perché non vi spiegheremo come fare, per cui rimanderemo questa guida super basica ad altri video. Non lo faremo in questo. Mi raccomando, leggete la descrizione perché gli errori più comuni sono diversi e ve li linkeremo uno per uno con il timestamp. Così potete cliccare direttamente sul minutaggio e se vi interessa qualche approfondimento specifico, perché poi andiamo in profondità, sapete come sono fatto, allora potete andare a guardare direttamente quelli che vi incuriosiscono. Vi ricordo di venire sul canale Telegram Chiocciolina Ciraolo e su officine.me slash upgrade in entrambi i casi per avere contenuti extra, risorse riservate in un caso dedicate a tutte e nell'altro caso dedicate ai finanziatori. Mentre vi dico anche che abbiamo il servizio di Daniele che vi voglio presentare perché è vero che adesso andiamo a imparare come gestire il sito web, ma è anche vero che tanti professionisti dicono no vabbè io non è che posso fare tutto, qualcosa la dovrò delegare agli altri perché mi voglio concentrare sulla mia attività e non sulla risoluzione dei problemi. Allora in questo caso ci viene in aiuto WPOK che trovate all'indirizzo wp-ok.it che è un servizio proprio che si occupa di prendere in mano il vostro sito web e di togliervi i problemi, è un servizio togli i problemi. L'abbonamento quello di punta del servizio prevede richieste limitate 89 euro al mese, non è una pubblicità ma è proprio ve lo presento perché ci tengo a farvelo conoscere perché credo che vi sarà utile in diversi casi e voi non dovete più pensare a niente perché ai problemi ci pensano loro, wp-ok. E allora caro Daniele direi che la presentazione è stata fatta e siamo pronti per cominciare, tu sei pronto? Sono pronto Andrea, non potevo sperare di una presentazione migliore, grazie. Grandissimo, grandissimo, allora andiamo un pochino a vedere che cos'hai per noi, io vado a proiettare il tuo schermo. Ok, quando vado? Vai quando vuoi. Ok, allora parto, hai già fatto un'ottima introduzione, voglio semplicemente raccontare... Specifica, specifica. Raccontare un po' velocemente chi sono e da dove arrivo. Io mi sono sempre occupato di informatica tecnica, in realtà in un settore completamente diverso, reti e sicurezza informatica, una carriera che ho iniziato in Brianza, in Italia, dove ho iniziato a lavorare e che poi ho continuato qui in Olanda dove vivo tuttora. Mi piace dire che ho avuto la fortuna, un po' come Rotowash, di vedere dall'appartamento la grande industria, perché appunto ho avuto a che fare con realtà molto molto piccole e con realtà molto molto grosse e questo mi ha permesso di vedere come situazioni diverse, con budget diverso, attività diverse ricevono, che tipo di supporto ricevono. Poi sono stato vittima del libro 4 ore alla settimana di Tim Ferriss, perché è un libro che mi ha messo in testa un po' il pallino di voler cambiare vita, di voler avere più tempo da dedicare a me stesso, alle cose che mi piace fare e quindi un po' questo libro, un po' la crisi dei 30, ho deciso di lasciare il settore, l'attività, l'azienda dove lavoravo prima e di mettermi in proprio. La mia prima idea è stata comprare siti esistenti e quindi già traffico e che già creavano dei soldi e impegnarmi a aumentare il profitto. Questa è stata l'idea iniziale e facendo questa cosa sono entrato in contatto con tante persone che appunto avevano dei progetti web o lavoravano sul web eppure avendo molta più esperienza business di me, che avevo appunto un background tecnico, facevano molta fatica perché si schiantavano sulla parte tecnica e quindi mi sono reso conto che dopo praticamente 12 anni da quando ho iniziato a lavorare con piccole realtà, mi sono reso conto che la situazione del supporto tecnico non era in realtà cambiata. I piccoli clienti, chi ha un piccolo progetto, un professionista, fa veramente tanta fatica a trovare un supporto all'altezza perché ci sono sempre delle dinamiche dove o finisce in mano, come dicevi tu prima, a un cugino che comunque ha dei limiti o a un freelancer magari bravissimo che però poi quando hai bisogno di supporto è impegnato magari creando il prossimo sito e con la prossima deadline, oppure delle web agency che hanno delle dinamiche molto diverse, dei costi, tipicamente dei costi elevati, con dei preventivi, dei tempi tecnici e quindi da questa mia esperienza è venuto in mente di creare WPOK, che hai descritto brillantemente tu, offriamo supporto WordPress illimitato, mi piace dire per chi fa sul serio perché comunque offriamo quello che è un abbonamento che dà accesso a un team di esperti WordPress che risponde nel giro di 24 ore e che si prende cura di tutti gli aspetti tecnici del sito, quindi tutta la parte di sicurezza, manutenzione, adesso passo velocemente giusto far vedere un attimo questo nostro sito, è proprio un abbonamento che dà accesso a un gruppo di esperti che segue tutta la parte di sicurezza, manutenzione del sito e eventualmente anche richieste illimitate per fix, quindi sistemare cose, aggiungere funzionalità, creare nuove pagine, caricare contenuti, qualunque cosa abbia a che fare con la gestione di WordPress. E questo è super perché ci sono diverse persone che dicono che io voglio delegare completamente questa parte qua e farla fare a qualcun altro perché non mi interessa, ma tu hai comunque poi, essendo anche tu una persona brillante, perdonami il complimento, tu dici ok io comunque ormai ho un'expertise su questa roba qua, io sono esperto e dico ok comunque le persone che vogliono delegare delegheranno, però ci sono anche tante persone che invece amano sporcarsi le mani oppure che vogliono prima provare a sporcarsi le mani per poi valutare eventualmente la delega. Io per esempio sono uno di quelli, io non delego mai a scatola chiusa, io prima devo fare, dopodiché mi rendo conto se quella roba lì ha senso farla, non ha senso, la so fare, non la so fare, mi piace, non mi piace e a quel punto delego. E allora, visto che tu hai questa esperienza, raccontaci un pochino, se hai terminato questa presentazione, raccontaci un pochino quali sono gli errori più o meno tipici di chi si gestisce un sito WordPress. Sì, Andrea, allora trattando il supporto tecnico c'è questa deformazione professionale dove vedi sempre quando ci sono problemi, cioè intervieni sempre nella risoluzione dei problemi e quindi vedi problemi ovunque. E purtroppo nel corso degli anni abbiamo visto un sacco di problemi, problemi che tante volte sono facilmente evitabili. Per questo voglio fare questa, ci tengo a fare questa presentazione, a parlare dei problemi più comuni, perché veramente ho visto tanta gente che ci ha messo l'anima per costruire il proprio sito, per creare i contenuti, per promuovere un nuovo progetto e poi porca miseria si trova a terra perché è per una mancanza tecnica. Per una sciocchezza, letteralmente per una sciocchezza. Era una sciocchezza. Quindi passo, ok, andiamo nel cuore di questi sette errori da evitare e partiamo da il primo che è il discorso del backup. Oh, e questo dovrebbe essere una regola di vita, proprio una religione, bisognerebbe entrare nella chiesa del backup. Cioè, mi sembra quasi assurdo nel 2019, quasi 2020 star a parlare dei backup, però ci sono ancora tanti problemi legati a questa tematica. Innanzitutto, cos'è il backup? Il backup è una copia del tuo sito. Siamo tutti abbastanza oramai consci del fatto che anche col cellulare hai delle foto, hai delle foto sul tuo computer, è importante avere una copia delle foto perché se ti si spacca il telefono, se ti si rompe il computer, tu hai comunque una copia per non perdere tutto. È lo stesso identico concetto quando si parla di un sito web. Quindi tu hai il tuo bel sito online, devi avere una copia perché se qualcosa va storto puoi andare a prendere quella copia. Però in realtà è un po' più complicato di così e ti riporto i cinque errori più comuni che abbiamo visto fare. Il primo è fidarsi dell'hosting, perché oramai tanti servizi di hosting includono dei backup sulle loro pagine, dicono backup incluso. Però abbiamo visto diverse volte che in realtà abbiamo visto diverse situazioni dove l'hosting magari faceva il backup dei file e non del database, faceva il backup dei file però non completo oppure faceva il backup una volta al mese, quindi quando è un problema se devi tornare indietro di un mese. Servizi che ancora al giorno d'oggi devi pagare extra per avere il backup. Insomma, diverse situazioni. Quindi noi crediamo che è meglio non fidarsi dell'hosting. Se l'hosting fa un backup meglio così, sempre averne uno in più. Ne abbiamo uno in più, chiaro. Anche perché sai che ti confesso Daniele che io sono uno di quelli che si fida del backup dell'hosting, quindi sto facendo un errore. È già la prima cosa che scopro. Nel senso che tu dici è vero, però poi il problema dei backup, e qui sto già sbirciando al tuo punto numero 5, il problema del backup è anche che magari ti rendi conto che quel backup non andava bene nel momento in cui ti serve. Quindi oggi mi fido del backup dell'hosting, il momento in cui il mio sito crolla e mi serve il backup, mi renderò conto che magari quel backup è aggiornato a due mesi fa, oppure è carente di alcune parti, oppure manca qualcosa, magari addirittura non è stato fatto perché mi sono dimenticato di rinnovare il tale abbonamento. Ecco, esatto. Questo è un altro esempio. C'è capitata una volta, un cliente non aveva rinnovato l'hosting, l'hosting era scaduto, se ne è accorto dopo un mese. Vabbè, c'era già una situazione dove era un sito che comunque non era molto controllato, diciamo. Però dopo più di un mese dalla scadenza, l'hosting aveva già cancellato i backup. Dice, ok, il tuo abbonamento quando era scaduto, dopo un mese abbiamo cancellato i backup, quindi si è ritrovato senza avere più niente in mano. Molto chiaro. Sì, poi un altro problema che vediamo spesso è tenere i backup sul server. È un po', come dire, avere tutte le uova in un paniere, sappiamo cosa succede se ti casca. Quando si fa una coppia di backup quando si fa una coppia di backup del sito, non va tenuto sullo stesso spazio hosting dove è il sito, ma andrebbe messo, spostato, copiato sul computer, messo su un sistema in cloud, e quindi non tenerlo sullo stesso spazio hosting. Chiarissimo. L'errore numero tre è fidarsi ai backup manuali. Cioè ho visto clienti che hanno un bel plugin di backup installato, però non hanno pianificato un backup automatico. Dicono ogni tanto vado lì, faccio il backup quando mi serve. Però è sbagliato, perché innanzitutto poi uno si dimentica, no? Nel frattempo passano mesi e quando ti accorgi che ti serve il backup, ne hai uno di sei mesi fa, nel frattempo hai cambiato tutto il sito, hai creato le nuove pagine e quindi diventa una coppia inutile o quasi. Che è la cosa più tipica del mondo, ti dico, effettivamente il backup è come la dieta. Cioè tu intanto la inizi sempre lunedì prossimo e il backup è identico, ma in più la inizi poi per due settimane sei molto ligio, tutti i giorni ti fai il tuo backup, poi inizi a farlo un giorno sì o no, una volta alla settimana, una volta al mese e poi ciao backup. Esatto. Il quarto errore è tenere pochi backup, cioè non basta avere un backup di ieri, diciamo io faccio un backup ogni giorno, tengo il backup di ieri, se c'è qualcosa torno indietro. Purtroppo ci sono diverse situazioni o problemi di cui non se ne accorge immediatamente, ma magari dopo qualche settimana. Ti faccio un esempio, il malware. Quante volte veniamo contattati, oh c'è il malware, quando è iniziato il problema, andiamo a vedere, era un plugin che è stato infettato due settimane prima. Però nel frattempo il malware agisce in modo semi-invisibile e quindi se io vado a recuperare il backup di ieri, anche il backup di ieri ha dentro il malware. Quindi l'errore è non avere abbastanza backup per poter tornare a situazioni precedenti. Ecco fammi sottolineare una cosa interessante, non bisogna confondere la copia col backup. Cioè una cosa è dire io mi faccio la copia del sito e quella è una copia che tu hai, che potremmo definire una copia di sicurezza. Quindi dici ok mi sono copiato il sito, il database e tutto quanto, da qualche parte ce l'ho lì. Quando mi copio il sito successivamente cancello quella precedente e mi tengo sempre l'ultima versione. Quella rimane una copia. Il backup per essere considerato tale, o perlomeno per essere considerato affidabile, deve avere una forma di incremento, si dice proprio incrementale, non so poi se ti sto spoilerando una parte successiva. Però il concetto è che io devo tenere copie precedenti, precedenti, precedenti. Per essere perfetti dovrei tenerle tutte. Ovvio che poi dipende anche dalla soluzione che ho trovato, dallo spazio che ho a disposizione. Però è proprio come dici tu, cioè io dovrei poter andarmi a prendere un file esattamente nella situazione in cui era un anno fa. Perché magari mi serve proprio quello. Sì, poi ci arriviamo a quel punto lì. L'ultimo errore più comune, come dicevi tu, non verificare i backup. Cioè non andare poi a vedere che effettivamente il file è stato creato e contiene quello che deve contenere, cioè i file e i database. Quindi, che tipo di soluzione serve? Io dico quasi... Scusami, ti posso dire una cosa. A me è successo questa roba qua di non verificare i backup. Nel senso che a me è capitato in passato di avere un servizio di backup per altro a pagamento, di portarlo avanti per alcune settimane e poi di dire proprio, ma guarda, fammi un po' vedere. Facciamo finta che adesso mi è saltato tutto. Fammi provare a ripristinare questo hard disk. E mi sono reso conto che non funzionava, o perlomeno che non funzionava come io mi aspettavo. Quindi, periodicamente, bisognerebbe andare e simulare, non dico la perdita dell'intero sito, che magari uno ci mette poi una giornata a ripristinarlo. Però anche solo dire, fammi vedere se riesco a recuperare quel file specifico. Lo sceglietene uno a caso e dite, vediamo se riesco a entrare in quel file o in quella cartella del database, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Allora, da manuale ti dicono, ah, ogni tanto devi provare a fare il restore di un backup. Sì, però, a lato pratico, cioè, chi si mette a fare il restore del backup di ieri per vedere se va. Cioè, appunto, come dicevo prima, ho avuto modo di lavorare in grosse realtà, dove facevano delle esercitazioni, praticamente, no? C'erano delle giornate dove andavano a prendere il backup, facevano tutta una serie di attività su degli ambienti di test. Però il professionista, che ha un piccolo progetto, difficilmente va a fare un restore per vedere. Però, in effetti, controllare che il backup è stato fatto, che il file c'è, se è un file zip, scaricarlo sul computer, aprire il file, vedere se dà errore, vedere cosa c'è dentro. Quindi, un controllo sicuramente va fatto. E quindi, riassumo un po' qual è la soluzione di backup ideale, però io direi quasi la strategia di backup ideale. Deve essere un backup automatico e pianificato, che salva le copie sul cloud. Quando dico cloud, intendo Google Drive, Dropbox, sì, questi servizi qua, che hanno anche delle versioni gratuite, che permettono di salvare i file su uno spazio che non è quello del tuo hosting, indipendente al tuo hosting. Devono essere completi, quindi, avere sia i file, tutti i file, e il database, che sono i due componenti, poi, che fanno funzionare WordPress. E tenere almeno 15 copie di backup. Quindi, poter, se è un backup giornaliero, perché secondo me non c'è motivo per non fare backup tutti i giorni, almeno tenere 15 copie, quindi almeno poter tornare indietro di due settimane. Chiarissimo, chiarissimo. Qua metto degli esempi di plugin che permettono di creare questa strategia di backup, questa soluzione di backup. Insomma, in questa presentazione, poi, non andiamo nel pratico a vedere come configurarli. Do solo degli esempi di plugin che funzionano e che consigliamo. Appdraft Plus, Backup Buddy, e l'ultimo è Vpita in Capsule, che è il nostro preferito, è quello che utilizziamo su tutti i siti dei clienti, perché fa quello che hai accennato tu prima, il discorso del backup incrementale. Cioè, invece di copiare, di creare una coppia di tutto il sito ogni giorno, va a vedere che cosa è cambiato dal giorno prima a oggi. Per esempio, da ieri abbiamo aggiornato un plugin, ok, allora faccio il backup su del plugin. E questo permette di avere dei backup molto più snelli, anche in termini di risorse, di quanto caricano il server, e abbiamo trovato anche più affidabili. E ha un prezzo questo, adesso sto guardando il sito web, lo sto anche mostrando, e vedo che costa per un sito, anzi per due siti, 49 dollari all'anno. Esatto. Purtroppo avevano una versione gratuita, l'hanno tolta un po' di tempo fa, mentre AppDraftPlus e Backup Buddy hanno anche versioni gratuite, che già ti permettono di fare tutto, già ti permettono di fare quello che, quel tipo di configurazione che abbiamo parlato finora. Ok, AppDraftPlus mi sembra che sia un po' il più famoso, almeno quello che mi capita di incontrare spesso nei vari elenchi di plugin per i backup, eccetera, eccetera, è quasi sempre considerato, è nominato per primo. Sì. Sì, sì. Qualche milione di installazioni in giro per il web. Direi che possiamo passare al secondo errore da evitare, quindi il primo, fare sempre il backup del proprio sito web, ma io aggiungo fare sempre il backup di qualsiasi cosa che abbiamo di tecnologico, le foto della prima comunione, i file di lavoro, Word, Excel, qualsiasi cosa facciamo su un computer, su un telefono, anche sempre avere una copia di backup, perlomeno se quei dati sono un minimo importanti per noi. Ok. Prossimo problema da evitare? Prossimo errore? Vedo che tu hai una presentazione super... Mi sono incasinato. Gigante, tutta mescolata, bellissima. Mi sono incasinato con la presentazione, però è il tema del controllo, cioè cosa intendo col controllo? Immagina che... Cioè, immagina di costruire la tua villa, la tua casa. Sì. E un giorno vai in comune perché ti serve qualche cosa e ti dicono guarda che il terreno su cui tu hai costruito la tua villa non è tuo, è di proprietà del muratore che ti ha costruito la casa o dell'architetto. Ecco, questa cosa che sembra assurda nel mondo reale, nel mondo degli immobili, la vedo capitare molto spesso quando si parla di siti web. Cioè, gli errori comuni che vedo sono i domini registrati da l'amico, dal webmaster precedente, dall'agenzia, oppure hosting gestiti appunto da altre persone di cui il cliente non ha neppure accesso. Guarda, questo qua, permettimi di sottolineare una roba, perché come tu sai io mi occupo, tra le altre cose, anche proprio di gestione, di realizzazione di siti web. È una cosa tipicissima, tipicissima, è che qualcuno si rivolga a me passando magari da un altro freelance verso il mio servizio e non so, magari sono sbagliato io, adesso non è che voglio dire questa è una regola di vita, però ogni volta fanno una fatica bestiale a ottenere il possesso del loro sito, del loro stesso sito, cioè ma è loro. Ma io dico, cacchio, se questa roba qua è tua, io freelance, come posso appropriarmi? È vero che è più comodo per il freelance, è vero che è molto più comodo avere tutto sullo stesso account, ci metti un attimo, una sola password, gestisci tutto, per carità anche quel po' di furbizia di dire ok, cerco di non rendere troppo autonomo il cliente perché poi così almeno viene da me, però cacchio, cioè non è corretto. Io per esempio ogni volta che faccio un sito massima autonomia il cliente, cioè il mio cliente deve potere in qualsiasi singolo istante potermi mandare a quel paese e non aver bisogno di niente, cioè il mio cliente deve avere il diritto di dire io quello là non lo voglio più sentire da questo preciso momento e non ho più bisogno di lui perché voglio fare da solo, perché voglio fare un altro. Detto questo, scusami, lo sfogo, secondo me è corretto, cioè state attenti che le vostre cose siano vostre, che non siano di qualcun altro. Sì Andrea, capisco lo sfogo, infatti guarda ho messo anche l'immagine io con le mani nei capelli, perché quando succede sta cosa mi fa veramente incazzare, scusa se lo dico. E fai bene. Perché comunque appunto sono persone che hanno pagato un sito e poi si ritrovano senza avere in mano quello che è loro. E devo dire, a volte capisco che, come dicevi tu, è più facile magari per avere il controllo di tutto ed è anche più... Cioè a volte spiegare al cliente come registrare un dominio o come attivare l'hosting è più complicato, cioè si fa quasi in servizio al cliente dicendo guarda lo faccio io così tu non ti devi preoccupare di niente. Però poi appunto c'è il discorso della proprietà e della proprietà di quelli che ho, io chiamo gli asset, cioè gli asset di un sito web sono comunque il dominio sicuramente, l'account e l'hosting, gli account di social media, Google Analytics, Search Console e altri servizi, non so se si utilizza tipo MailChimp o se ci sono dei plugin, anche dei plugin premium. Quindi ecco, chi ascolta invito a fermarsi un attimo e dire ok, chi ha il controllo di queste cose? Io ho il controllo di questi elementi qua o sono in mano a qualcun altro? Perché poi finché si va d'amore d'accordo le cose vanno bene. Però quando c'è un problema, quando una persona diventa raggiungibile per un motivo o per l'altro, poi diventano, diventano, diventa importante appunto avere il controllo. E tu puoi testimoniare che queste robe accadono più spesso del previsto, perché uno dice, è un po' come i matrimoni, uno dice ok, non ci lasceremo mai, che è vero, intanto non è una certezza che si può avere, ma è una cosa, diciamo una supposizione, a maggior ragione, più che il matrimonio nel caso di servizio di un freelance. Ma poi il punto non è soltanto ah, quello lì non è più bravo, adesso è bravo, non sarà più bravo, ma possono succedere un milione di cose, gli può venire un coccolone, può andare a vivere all'estero, può cambiare lavoro. Sì. Ci sono tante le cose che possono accadere in quel caso. Io ti dico, siamo proprio in questo momento con una persona da quasi un mese che non riusciamo ad avere le password per gestire il suo sito web. È quasi un mese che diciamo, cavoli, mandaci ste password, fai il passaggio su Aruba dal mio account al tuo. E niente, è un mese che latita e non ci riusciamo in nessun modo. Sì, no, ti confermo che è quello che vediamo anche noi capitare spesso. Sì, ed è una cosa che fa riflettere. Quindi, per evitare di finire in quella situazione lì, controllate che tutti questi asset devono essere registrati a tuo nome o a nome della tua azienda e dobbiamo averne pieno controllo. Ecco. Poi, piuttosto, gli intermediari. Esatto, piuttosto, questo sì che credo che sarei d'accordo anche tu e penso che sia anche il modo in cui lavorate voi di WPOK, date le password, le date in modo sicuro, usate una chat sicura su Telegram, fate in modo che non siano salvate su qualche mail che rimane poi su Gmail. Insomma, trovate il modo di farlo bene, però è ovvio che poi serve alla persona che vi gestisce eventualmente il sito di poterci entrare, ma lo fa con i vostri account. Nel momento in cui voi cambiate la password, tutti quelli che non siete voi sono chiusi fuori. Sì, sì, decisamente. Passiamo al... Errore numero tre? Ok, qua è il discorso dell'hosting. Abbiamo visto situazioni in cui i clienti utilizzavano degli hosting caserecci, insomma, un po' la situazione che appunto qualcuno ti rivende un servizio di hosting gestito da lui. Abbiamo visto hosting che hanno un supporto limitato, cioè ancora oggi ci sono degli hosting che fanno supporto solo via telefono dalle nove alle cinque. E... è assurdo. Cioè, perché innanzitutto se tu alle cinque e zero uno hai il tuo e-commerce che non funziona più, cosa fai? Devi aspettare il giorno dopo? E poi anche il supporto via telefono è scomodo, devi sempre rispiegare il problema, non c'è niente di scritto, ricevi delle risposte che poi non vengono tracciate. Insomma, non va bene, è inefficace. oppure hosting che hanno server vecchi e lenti, insomma, delle macchine che poi per il cliente è abbastanza difficile valutare, però è un problema che quando facciamo un'analisi tecnica compare spesso. Poi c'è questa... Capita ancora, secondo te, prima di passare a quella domanda che è super interessante, qual è l'hosting migliore per WordPress e chissà in quanti se lo stanno chiedendo adesso, Capita ancora che ci siano dei professionisti che propongono e non so se è quello che intendi con hosting caserecci che dicono guarda, ho io il server in ufficio, mettiamo il sito sul mio serverino, non ti preoccupare che te lo gestisco tutto io, è quello che intendi? Sì, sì, questa è una cosa che... sì, è un esempio, quindi server gestiti in casa che veramente per... al giorno d'oggi lo trovo una cosa veramente anacronistica, cioè l'hosting è diventato molto industriale come servizio, cioè quasi in accomodio, ha dei costi comunque molto ragionevoli. Sì, hanno costi ragionevoli, chi vende hosting ha macchine, data center, cose, è organizzato per farlo, cioè mettersi un serverino in casa per fare un servizio di questo tipo è veramente a poco senso, con tutti i problemi della gestione, eccetera, cioè sono servizi molto poco affidabili fatti in questo modo. Ecco, specifichiamo una cosa, ovviamente noi stiamo parlando a persone che utilizzano il sito o che vogliono utilizzarlo in maniera diciamo professionale, cioè per dire se siete uno studente di informatica e volete farvi il vostro server anche per imparare a fare il server, quella è una manna dal cielo, cioè fatelo tutta la vita perché è super utile. È chiaro che noi ci stiamo rivolgendo a persone che utilizzano il sito web o che vogliono utilizzarlo non fine a se stesso, cioè non per imparare a gestire il sito web ma perché vogliono ottenere degli altri risultati, siano essi vendere qualcosa, offrire un servizio, far vedere delle foto o scrivere delle poesie. L'altra domanda che ti voglio fare Daniele prima di vedere qual è l'hosting migliore però è un dubbio che ho spesso anche io. Quanto è grave secondo te fare un passaggio di hosting nel momento in cui ti serve quello migliore perché intanto correggimi se sbaglio finché hai il tuo sito vetrina della pizzeria nel quale ci vanno sì e no dieci persone al giorno se ti va bene quindi nei giorni affollati questo discorso secondo te ha comunque senso anche se ci vanno dieci persone al giorno o in quel caso mi posso permettere di risparmiare e se tu dici ok posso risparmiare qualcosina in quel caso quanto poi è complicato nel momento in cui la mia pizzeria fa il botto diventa la più famosa della Lombardia di qualsiasi altra regione quanto è complicato passare invece a un hosting più professionale? Allora la prima parte della tua domanda ti dico le situazioni in cui c'era l'hosting peggiore che ho visto erano quelle dove il cliente pagava di più per assurdo perché era comunque in mano sì perché era in mano comunque magari a un'agenzia o chi gli aveva fatto il sito che gli vendeva a un servizio di scarsa qualità ad un prezzo più alto perché comunque c'era tutta una serie di ricarichi di logiche quindi le situazioni mi ricordo un cliente qui una palestra qui di Amsterdam che aveva un sito uno spazio web con 500 mega limitato a 500 mega e pagava un fotio di soldi all'anno cioè centinaia di euro all'anno per avere non sapevo che esistessero i mega usavano i flop per tenerli questi mega sì ma ti parlo di un anno fa non di non di dieci anni fa cioè è una cosa che mi ha lasciato però sì tante volte passare a un servizio di qualità ti fa anche risparmiare i soldi quindi ecco non è diciamo il costo non è l'unico l'unico metro molto chiaro per la seconda parte la domanda allora si può cambiare hosting in qualunque momento serve avere appunto si torna al discorso del controllo quindi bisogna avere accesso all'hosting accesso al proprio dominio per poter fare un trasferimento oramai tanti servizi di hosting quando attivi il pacchetto ti offrono gratuitamente il trasferimento del sito e quindi ecco la la barriera per trasferire un sito un sito web da un hosting all'altro è molto bassa quindi volendo io potrei anche pensare di dire ok io adesso devo creare il mio sito non ho tempo perché voglio crearlo subito perché poi apro la pizzeria domenica prossima mi serve in fretta mi prendo un hosting che leggo due recensioni mi sembra che vada bene lo piglio intanto ce l'ho e magari fra sei mesi quando invece l'attività è più avviata io ho più tempo posso ragionare sull'hosting migliore per l'appunto e prendermi quello mettendo in conto sicuramente un po' di sbatti se sono totalmente a zero magari la richiesta a un professionista che potrebbe farlo un prezzo non esorbitante però bene o male si può fare sì 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 una roba del genere sì sì si può fare è un'attività che si fa senza mettere offline il sito cioè alcuni clienti dicono oh ma se cambiamo hosting quanti giorni il mio sito starà no non sarà se è fatto bene il trasferimento è sempre il sito rimane sempre disponibile perfetto molto chiaro quindi è un'attività abbastanza tranquilla ma se vogliamo già partire dal migliore come lo troviamo ok esatto sì quindi la domanda più frequente è qual è l'hosting migliore per wordpress se apri i gruppi facebook che parlano di wordpress c'è dieci dieci volte al giorno qualcuno gli chiede qual è l'hosting migliore e ovviamente vabbè dipende da ovviamente da tanti parametri però io voglio dare un serie di criteri di valutazione perché in realtà a meno se tu non insisti troppo io vorrei evitare di fare nomi però ok vorrei piuttosto dare dei parametri te l'avrei proprio chiesto ti avrei detto beh però fammi qualche nome ok accetto la tua proposta e guarda ti dico anche perché preferisco dare i parametri di valutazione perché nel mondo degli hosting ho visto le cose cambiare cambiare abbastanza rapidamente qualche anno fa io raccomandavo a tutti i site 5 non so se te lo ricordi a proposito di non fare nomi fantastico non fare nomi servizio fantastico entravo in chat c'erano oramai quei due o tre tecnici che seguivano la fascia lavoravano in orario europeo quindi li conoscevo anche fantastico un giorno è stato acquisito da una società più grossa è diventato l'inferno non rispondeva più nessuno risposto il servizio è peggiorato e io l'avevo raccomandato a tante persone ci ho fatto pure la figura a un certo punto rischia anche di farci brutta figura quindi ecco è un mondo molto dinamico quello degli hosting poi se un servizio funziona bene viene consigliato arrivano tantissime persone tipicamente il servizio peggiora perché fanno appunto diventare una società più grossa dove si fa più fatica hai ragione e visto che questo video avrà una coda molto lunga voi lo vedrete magari fra 10-15 anni vi diamo più che altro dei parametri se poi volete entrare nel dettaglio perché per voi è la roba più importante avete i nostri contatti contattate Daniele soprattutto o me nel caso e vi diamo magari qualche indicazione più puntuale nel momento in cui ci contattate tra l'altro un'altra cosa che aggiungo Daniele che mi viene in mente è che purtroppo gli hosting è proprio una di quelle cose è uno di quegli ambiti dove evidentemente le società investono molto investono molto in affiliazioni e quindi tu non capisci mai quando qualcuno te lo sta suggerendo perché è davvero il migliore o perché si prende una bella percentuale su quel suggerimento è molto complicato andare a capirlo è vero e le dinamiche sono sì sono si sentono e si vedono molto insomma ci sono dei servizi che sono stati straraccomandati da tutti quanti perché poi scopri che vanno a pagare 40-50 euro per ogni per ogni nuovo cliente che portano e così magari a volte l'ho visto anche consigliati da persone che non utilizzavano quel servizio lì eh sì non mi sorprende non mi sorprende dai come lo riconosciamo allora deve essere un hosting deve fornire supporto 24 ore 24 ore su 24 24-7 quindi anche nei weekend via chat o via email non appunto come l'esempio che ho fatto prima supporto alle 9 alle 5 via telefono lasciate perdere poi dovrebbero dare risposte entro un'ora soprattutto per situazioni critiche dove c'è insomma il sito è completamente non raggiungibile dovrebbero dare risposte utili perché cosa intendo con utili risposte efficaci cioè evitare lo scaricabarile che vedo fare spesso che l'hosting dice ah no questo è un problema di wordpress allora scrivi alla persona di wordpress no questo è un problema dell'hosting cioè evitare un po' lo scaricabarile che alla fine non risolve niente quindi fornire risposte utili se un hosting cioè evitare hosting che danno degli errori casuali quando capita apri una pagina e inizia a vedere errore 503 gateway timeout sito risorse esaurite insomma quando inizia un hosting inizia a dare questo tipo di errori non sempre però errori un po' casuali su alcune pagine vuol dire che i server sono sovraccarichi e quindi se non riescono a darti una soluzione è ora di cambiare e poi aggiungo tra l'altro fammi fammi aggiungere una cosa prima che vai sul tecnico rispetto al pannello che è una cosa che eventualmente si può fare io l'ho fatta ogni tanto devo dire non nel caso dell'hosting ma in altre situazioni nel momento in cui attivi un servizio e sei ancora in quella fase in cui una migrazione tutto sommato non ti costa chissà quanto in termini di energie tempo e soldi io a volte provo a contattare il servizio clienti con delle problematiche finte cioè cerco di essere più scemo possibile di fare il cliente meno preparato possibile di mettere un po' alla prova le persone che mi rispondono questo secondo me va fatto dopo aver acquistato il servizio perché di solito prima ti girano verso i commerciali non verso i tecnici che risolvono il problema i commerciali sono molto più gentili dei tecnici solitamente e in questa maniera si mette un pochino alla prova il servizio di cui si si vuole fruire è un ottimo trucco e invece il pannello di controllo che è? il pannello vabbè senza entrare troppo nel tecnico però tanti hosting moderni tra le caratteristiche che danno dei pacchetti di hosting dicono appunto che utilizzano il pannello cpanel o plesk che sono due pannelli due interfacce per la gestione dell'hosting molto diffuse molto semplici da utilizzare molto intuitive quindi io consiglierei di andare verso uno di un hosting che offre questo tipo di pannelli di gestione molto chiaro il quarto punto che è un problema molto sentito sui siti wordpress è quello della velocità perché un sito wordpress che non è non è ottimizzato per la velocità su cui ci si installano tanti plugin diventa lento e un sito lento dà due problemi il primo che i visitatori insomma chi vede guarda il tuo sito se il tuo sito è lento non sta troppo a aspettare ora c'era una ricerca famosa che viene sempre citata dove dicevano che il 40% delle persone che visitano un sito che carica in più di 3 secondi chiudono la pagina e scappano secondo me è un po' esagerato cioè non non credo tanto in questa cosa che la gente chiude e va via se il tuo sito carica in più di 3 secondi però è vero che c'è un certo effetto halo chiamo una certa un certo halo aurea intorno al tuo sito che a livello psicologico influisce chi lo visita cioè se se visita un sito lento penso che quel servizio quella persona quel prodotto è lento se visito un sito brutto penso che la persona genera tutta una serie di considerazioni il visitare un sito che ha certe caratteristiche cioè immaginate è come se uno dice ok io sono un negozio devo fare la vetrina e la vetrina la tengo in disordine la lascio sporca o magari tengo la serranda mezza chiusa e lo stesso identico effetto poi uno dice ok però noi dovremmo superare i pregiudizi dobbiamo entrare lo stesso nel negozio perché magari è il negozio più bello del mondo ma la verità è che siamo esseri umani e gli esseri umani ragionano per scorciatoie perché è così che siamo efficaci e quindi se vediamo un sito che è inefficace abbiamo anche senza rendercene conto la percezione che colui che sta dietro al sito o meglio non tanto colui che sta dietro al sito come nel senso di colui che lo ha creato ma colui che il cui che è rappresentato dal sito ce la facciamo è inefficace esatto sì e gli errori comuni sono appunto siti lentissimi a caricare aspetta sottolineiamo anche perché mi sembra di non aver che non l'hai detto quella cosa di google perché quella lì secondo me è una roba fondamentale molto importante sì allora google sono anni che dice che il web deve essere più veloce e da un po' di tempo utilizza anche la velocità di un sito come parametro sia per la SEO quindi il posizionamento del tuo sito nel risultato di ricerca dipende in qualche modo anche dalla velocità poi ci sono pareri diversi da quanto in effetti influisce però è uno dei parametri che influisce e poi ultimamente anche per chi fa pubblicità cioè chi utilizza facebook ads oppure google ads quindi per chi paga la pubblicità la velocità della pagina dove poi mandi il traffico influenza quanto tu paghi i click e quindi diventa un parametro anche importante per la SEO e per e per chi fa pubblicità quindi in generale google adora i siti veloci questa è una roba che hanno ripetuto e che adesso l'hanno anche messa in pratica evidente quindi beh gli errori comuni appunto siti molto lenti errori sporadici sulle pagine come dicevo prima errori 500 503 get to it time out insomma errori legati alle risorse e troppi plugin attivi ci capita guardi un sito ci sono 60 plugin attivi spesso non neanche utilizzati immaginate i plugin per voi che magari non siete esperti di wordpress un po' come se fossero dei tubi all'interno dei quali passa l'acqua voi potreste avere un secchio e prendere l'acqua direttamente dal secchio e quello è un sito senza plugin oppure potreste attaccare tanti piccoli tubettini che man mano vanno ad allungare la distanza fra voi e l'acqua e quelli sono tutti plugin perché ogni volta che si carica un sito web viene caricato ogni singolo plugin prima di farvi vedere quel sito web ovvio che stiamo parlando di centesimi a volte millesimi di secondo per cui un plugin due plugin dieci plugin quindici plugin se sono impostati nella maniera corretta non vi vanno a stravolgere l'utilizzo poi del sito finale ma già 60 plugin come diceva Daniele certo che vanno poi a cambiare l'utilizzo del sito web perché effettivamente lo rallentano prendete 10 centesimi di secondo per 60 e siamo già arrivati a 6 secondi per cui insomma consigliamo sempre di fare un test della velocità con questo servizio gtmetrix.com e devo dire che online ci sono tantissimi servizi siti diversi che permettono di fare test di testare la velocità di un sito wordpress gtmetrix è quello che abbiamo trovato essere più affidabile mentre parli sto analizzando sto analizzando il sito web di appdraft così perché era l'ultimo che avevo aperto proprio con gtmetrix vediamo un po' che cosa ci dice e un'altra cosa che lo faccio no no sto mostrando il mio sono un professionista cosa credi un'altra cosa che io utilizzo per fare questa cosa è Lighthouse di google non so se è un servizio che ha senso utilizzare allora c'è stiamo vedendo delle cose strane con i servizi di google in particolare con page speed insight sì perché stanno facendo il vero e proprio terrorismo su chi ha un piccolo sito web perché hanno iniziato a dare un sacco di segnalazioni di cose che sono alla meno o peggio estremamente costose da sistemare cioè danno indicazioni di come rendere la pagina più veloce però è sempre un po' un equilibrio tra quello che puoi fare effettivamente e quello che ha senso fare è come dire che per rendere non so per rendere più sicura a casa tua devi farci un fossato cioè è vero che il fossato rende la tua casa più sicura però tu non vai a fare il fossato perché non è è molto più senso mettere per te una porta blindata non hai bisogno del fossato ecco abbiamo visto con PageSpeed Insight delle segnalazioni di cose che sono che sono un po' poco irrealizzabili guarda hai super ragione un'altra era quella di utilizzare le immagini WebP che è un nuovo un formato sì diciamo un nuovo formato di immagini molto più leggere però manca il supporto di tanti browser quindi ok Google ti ringrazio che mi stai dicendo di attivare WebP però se poi chi ha un browser un browser vecchio non può vedere più il mio sito grazie grazie tante non diciamo cosa grazie ma senti guarda ti dico una cosa perché mi fa intanto è arrivato il risultato di GTmetrix AppDraft Plus è una page score di 78% e poi è una cosa che volevo proprio dire è questa cioè usate questi servizi ma non fossilizzatevi sui numerini nel senso che poi il numerino può avere un milione di spiegazioni e non è detto che necessariamente sia un problema certo è che voi dovete puntare al 100% in questi servizi cioè non è che quella sia una roba da mettere in discussione ma è anche vero che il consiglio che vi do è provate a fare i test anche su altri siti magari dei vostri competitor magari di siti che vi piacciono che vi sembrano performanti vedrete che nessuno raggiunge il 100% quindi non morite dietro a quel numerino piuttosto cosa super utile andate a vedere i consigli che vi da cioè se voi scendete in basso per esempio su gtmetrics vedete perché non avete raggiunto il 100% e soprattutto vi viene dato in ordine di gravità e quindi in questo caso potete andare a capire che cosa potete andare a migliorare ti dico per così come racconto che io sul mio sito web quando l'ho realizzato mi sono detto io voglio prendere proprio il servizio di google e voglio raggiungere il 100% ti dico che non ci sono riuscito ti dico che sono arrivato tipo a 97% una roba del genere ci ho messo un paio di giorni solo per sistemare quella roba lì quindi immaginatelo nel mio caso in termini di tempo speso in altri casi magari in termini di costi super soddisfazione peccato che c'è un problema cioè ogni volta che vado a fare una microscopica modifica del sito quel valore crolla perché era tutto tenuto in piedi da dei microscopici aggiustamenti metti le immagini webp però quando il browser non è compatibile allora fai vedere l'altra immagine però poi utilizza javascript ma quando non caricarlo caricalo insomma ci siamo capiti e quindi morirci dietro no tenerli presente sì utilissimi senza morirci dietro perché se no rischiate davvero di entrare in un vortice come è successo al sottoscritto in cui se non avete il 100% non siete contenti e non ne uscite più sì facendo dei test su siti che anche famosi per esempio ho visto il risultato del test di Aranzulla l'altro giorno del sito di Aranzulla il sito che conoscono tutti sempre nelle prime posizioni di Google ha risultati tremendi in termini di percentuali proprio perché non è quello il focus il focus vero secondo me è il tempo di caricamento cioè un sito deve caricarsi idealmente sotto i 3 secondi sotto i 5 secondi va bene e questo con un lavoro di ottimizzazione si può si può ottenere ed è qui che entrano in gioco i consigli che vi dà GTmetrix perché poi voi vi rendete conto che di quali sono le cose più importanti che vi mancano e diciamo un piccolo trucchetto Daniele ma questo qua è un trucchetto un po' pro per cui magari esula dalla chiacchierata che stiamo facendo molti siti utilizzano una roba che è utile che utilizzo anch'io quando ne ho l'opportunità che è quella di caricare entro il primo secondo la parte che si vede subito e dare più tempo al sito per caricare la parte sotto per cui tu dici ok io ti faccio vedere l'home page la parte di sopra con l'immagine il titolo la descrizione in quel secondo che tu hai scrollato io ti ho già caricato la parte successiva del sito sì un'ultima cosa che voglio dire no no dimmi dimmi volevo soltanto dire un ultimo metodo per testare il vostro sito web poi magari non va bene perché di google come dicevi tu però in realtà una cosa che abbiamo tutti sul browser se utilizziamo google chrome è la possibilità di premere f12 vediamo se ora mi ricordo la strada per raggiungerlo vi si aprirà la console degli sviluppatori e in alto avete un menu se voi andate a cliccare per ampliare quel menu a un certo punto trovate audits e quell'audits vi va a fare proprio una sorta di gtmetrics cioè vi va a misurare alcune variabili performance web app best practice accessibilità seo dal punto di vista di google come dicevamo prima in maniera assolutamente corretta sono valori da prendere con le pinze e se non siete addetti ai lavori chiedete a qualche addetto ai lavori se ha senso poi spendere tempo e denaro su quel singolo valore adesso sto facendo sempre la prova con updraft plus è una cosa che voi utilizzate ogni tanto questa qua degli audits di chrome si ogni tanto perché poi hanno anche il waterfall che puoi vedere ogni richiesta singola quanto quanto tempo richiede perfetto nel frattempo lo sta facendo tu avevi altro da dire su questa su questo errore si beh tre semplici passi per velocizzare un sito cioè se avete un sito wordpress su cui non avete mai fatto nessun lavoro ottimizzazione per renderlo per velocizzarlo velocemente i tre passi sono installare un plugin di caching e qui ce ne sono diversi noi utilizziamo WP Rocket perché è molto efficace e anche molto semplice nella configurazione è un plugin premium comunque che costa 39 dollari secondo me ben spesi perché appunto con pochi click già si ottimizza si prende cura di un sacco di aspetti tecnici dell'ottimizzazione poi ottimizzare le immagini qui c'è un plugin e www image optimizer è uno dei tanti anche qui che ottimizzano le immagini cosa vuol dire ottimizzare le immagini spesso si caricano sui siti delle immagini che non sono ottimizzate per il web e non parlo solo di cioè non parlo della risoluzione dell'immagine in termini di dimensioni ma parlo proprio di come compressa l'immagine e come viene visualizzata e qui si possono fare si può fare un ottimo lavoro di ottimizzazione che viene fatto in automatico dove si risparmiano un sacco di dati che vengono trasferiti sulla pagina però all'occhio umano non fa differenza perché sono delle usano una migliore compressione praticamente che non fa differenza sulla qualità percepita dell'immagine in poche parole le immagini pesano meno ma si vedono uguali esatto esatto grazie così se avete un hosting spiegazione faticosa così se avete un hosting da 500 mega che salva nel floppy ci sta anche nel floppy disk esatto poi il terzo consiglio riguarda riguardare i plugin che sono in uso e qua consiglio di farsi tre domande la prima è è necessario questo plugin la seconda è deve essere sempre attivo perché ho visto situazioni dove c'è magari un plugin che rigenera i thumbnail non serve averlo sempre attivo perché è un'operazione che fai magari una volta ogni tanto quando vai a cambiare il tema quindi in questo caso non serve averlo sempre attivo e terza domanda insomma chiedersi questo plugin in effetti può essere rimosso o no se può essere rimosso meno plugin come regola generale meno plugin ci sono attivi e più è veloce il sito perché richiede meno risorse poi fate queste tre cose riprova potete fare un test ancora con GTmetrix e vedrete il prima e dopo già dei dei bei cambiamenti a volte fa impressione ricordatevi a proposito di plugin che i plugin almeno nella stragrandissima maggioranza dei casi non sono realizzati da coloro che hanno realizzato wordpress ma sono realizzati da altre persone in alcuni casi dei professionisti in altri casi addirittura dei ragazzi che magari lo fanno nella loro cameretta magari studenti di informatica magari appassionati magari quindicenni ora sto volutamente un po' esagerando per rendervi il concetto cioè il plugin non è detto che si è ottimizzato a volte uno può installare dei plugin che hanno dei buchi di sicurezza che hanno dei problemi di prestazioni e quindi non dare per scontato che si installi il plugin è tutto a posto ma fare sempre delle verifiche in termini di sicurezza e di prestazioni nel frattempo Daniele è arrivata il risultato degli audits di Google e questo che adesso vi sto mostrando è quello che vedrete quando lo farete per cui vi darà dei valori in termini di performance accessibilità best practice SEO che voi potete poi andare a confrontare con altri siti potete chiedere dai professionisti o potete anche capire andando info scrollando verso il basso ancora una volta quali sono le cose che hanno creato determinati problemi scusate se lo ripeto per l'ennesima volta bisogna comunque sempre guardare questi valori in prospettiva con Grano Salis perché se li prendiamo in termini assoluti rischiamo di entrare in un vortice dal quale poi non usciamo più abbiamo il prossimo errore sì passiamo a un discorso della sicurezza che hai già si è già si è già accennato però il discorso è un discorso importante e un errore che devo fare spesso è pensare che bisogna proteggere il proprio sito dagli hacker e quindi sento persone che dicono ah sì ma io il mio sito non è una banca io non non vendo niente non è un e-commerce ma chi vuoi che interessi attaccare il mio sito dove parlo dove racconto i miei viaggi magari un blog personale però in realtà è che non bisogna proteggersi dagli hackers ma dal malware e il malware è un tipo di attacco automatico che va a bussare diciamo tutte le porte che trova sul web se è una porta aperta entra quindi non sta non dipende che si non è in funzione del sito che hai di quanti soldi fai semplicemente se hai un sito wordpress sei soggetto a potenziali attacchi da parte del malware cioè non è che questa roba c'è una persona che la fa e che si mette dice fammi vedere un po' il sito di Daniele sì guarda che questo mi piace c'è che gli butto il malware ma loro tramite dei software fanno pesca strascico quindi buttano le loro reti e dove il malware riesce automaticamente non con una persona che si mette lì ma riesce automaticamente entrare e quindi può essere tranquillamente il vostro sito sì e qui problemi comuni allora noi abbiamo visto abbiamo risolto tolto malware a oramai parecchi siti siti web perché è un servizio che offriamo e il motivo principale era che c'era wordpress plugin o il tema non aggiornati quindi la mancanza di aggiornamenti fa sì che ci siano delle porte aperte questo perché ogni aggiornamento va a correggere delle a fissare dei problemi dei bacchi del software che possono essere utilizzati per gli attacchi oppure vabbè errori di setup di wordpress ma il problema il secondo problema dove abbiamo che abbiamo visto causare malware è utilizzare dei plugin craccati cioè a volte clienti magari per non spendere quei 39 dollari per acquistare un plugin lo scaricano in modo illegale da qualche sito e spesso questi plugin che si installano in realtà hanno dentro del malware e quindi per risparmiare 39 euro 39 dollari magari si trova con un problema molto più grosso la sicurezza può essere testata con queste sono alcune risorse poi tutti questi siti li ho raggruppati alla fine in una in una slide questi sono comunque dei servizi gratuiti che permettono di fare un check e testare lo stato di salute di un sito di un sito wordpress interessante e per per aumentare la sicurezza in quattro passi allora la prima cosa tenere sempre aggiornati wordpress plugin e il tema e questo per tenere il sito appunto sicuro e anche per tenere il sito funzionante perché poi questi aggiornamenti vanno a faccio un esempio se domani facebook cambia qualcosa nel modo in cui puoi condividere un articolo se tu aggiorni il tuo tema i tuoi plugin allora il tuo sito continuerà a funzionare altrimenti non questa funzione non smetterà di di funzionare quindi è importante il discorso degli aggiornamenti è molto molto importante poi il secondo passo installare un plugin di sicurezza noi utilizziamo wordfence su tutti i siti dei nostri clienti è un plugin che trovo molto completo e ti raccomando impostare l'email a cui mandare gli alert perché poi wordfence quando c'è qualcosa di strano sul sito invia una notifica via email ed è molto importante andare a guardare queste email che cosa contengono perché sennò è come mettere la errore più comune fare tipo info chiocciola qualcosa e poi uno si va a guardare solo quella di gmail e info chiocciola qualcosa non la guarda mai esatto sì oppure addirittura in in alcune società c'è l'abitudine di creare mail a profusione ti serve quella singola cosa specifica e fai la mail tipo wordfence chiocciola società tal dei tali e poi quella mail viene guardata per la prima settimana e poi se la dimenticano tutti all'interno della società non esiste più sì è come mettere le videocamere di sorveglianza per non avere nessuno che che controlla quindi wordfence fa già tanto di suo per evitare problemi però se c'è qualche cosa che va storto notifica via email e quindi qualcuno deve prendersi la briga di andare a controllare questa cosa dice senti wordfence ha una anche versione gratuita o c'è solo a pagamento sì ha una versione gratuita che poi è quella che utilizziamo che usiamo noi la versione a pagamento aggiunge poco in realtà personalmente non ho mai trovato un motivo valido per cui per passare per investire e poi anche dei prezzi che ho trovato abbastanza alti per quello che fa quindi siete tranquilli con la versione free poi terza cosa aggiungere il sito a search console search console è un servizio di google si aggiunge puoi aggiungere il tuo sito gratuitamente c'è una semplice procedura di verifica per poter aggiungere questo è uno strumento super utile perché dà un sacco di informazioni sul tuo sito ed è soprattutto quello che dico è il canale di comunicazione tra google e te che hai un sito cioè google se trova un problema che ha a che fare con l'indicizzazione o un problema legato alla sicurezza non ti telefona quello che fai ti manda la notifica su search console quindi fai modo di avere il tuo sito collegato a search console per avere queste queste informazioni molto interessante perché io lo consideravo search console solo per la parte diciamo di motore di ricerca e invece effettivamente hai ragione perché lui ti dice anche se ci sono degli errori e cose simili sì è diventato sempre di più è il punto di contatto fra google e chi ha un sito quindi lo raccomando lo raccomando veramente a tutti è molto facile iscrivervi vi basta un account google search.google.com e lì lo trovate quello che vi sto facendo vedere proprio adesso poi il punto successivo sì l'altro consiglio è non utilizzare plugin craccati o null che null è un termine che viene utilizzato null vuol dire che è stato annullato il controllo perché se è un plugin che ha una licenza per poter funzionare per esempio la versione null è quella dove viene annullata il controllo della licenza e in realtà questi plugin sono come dicevo prima più volte sì che no sono contengono del malware sono un veicolo che viene utilizzato per diffondere dei virus e del malware quindi state lontano e l'ultimo punto utilizzare HTTPS ora HTTPS è il protocollo di comunicazione sicura sicura perché tutto quello che passa tra il computer e il tuo visitatore e il tuo sito web viene cifrato quindi viene non è possibile vederlo e passa in modo sicuro e questo aumenta tutto il discorso di aumenta sicuramente i discorsi di sicurezza e la protezione di un sito quindi oramai non c'è più motivo di non utilizzare HTTPS tra l'altro anche un requisito di legge con il discorso del GDPR quindi se non avete HTTPS quindi quando se l'indirizzo del vostro sito non inizia con HTTPS ma inizia con HTTP passate HTTPS attivate HTTPS prima possibile ed è relativamente facile farlo lo fate tramite l'hosting proprio nel pannello di controllo dell'hosting dovete fare qualche click nella maggior parte dei casi tipo trovate certificato SSL e robe del genere e in quella zona lì vi andate ad impostare l'HTTPS Andrea passo prossimo errore errore consiglio numero 6 è legato usabilità e conversioni ora premetto che io non sono esperto di usabilità e conversioni però questo non previene il fatto che posso vedere delle cose che non sono fatte molto bene il concetto generale su quando si parla usabilità dicono don't make them think cioè non lasciare non lasciare che il visitatore del tuo sito debba pensare cosa fare cioè rendigli la vita più semplice possibile le cose più chiare possibili per aumentare l'esperienza che avrà per semplificare la fruizione del tuo sito e come errori frequenti vedo innanzitutto utilizzare troppe CTA o troppe distrazioni CTA sono le call to action cioè quando tu in una pagina vuoi che il visitatore voglia fare qualche cosa per esempio vuoi che si registri la tua newsletter ecco quello che vedo è che a volte si mettono si ripete la stessa CTA troppe volte o si mettono CTA diverse quindi come call to action registrati la newsletter scarica questo seguimi su facebook scarica il pdf esatto per ogni pagina decidi una cosa un'azione che è importante per te per la tua attività decidi un'azione e spingi o suggerisci quell'azione sì poi ho un esempio dopo che raccoglie tutti comunque non vedo l'ora guarda che mi sta incuriosendo quel perdonami Simone non vedo l'ora di che tu lo clicchi Simone sì poverino secondo errore frequente utilizzare immagini stock quando non si dovrebbe cioè immagini stock sono le tipiche immagini che scarichi molto belle immagini professionali che però non trasmettono niente di plastica tipo ah questo è l'ufficio di WPOK faccio vedere le torri un palazzo bellissimo a specchi cioè sì belle immagini bella foto però non è realistica terzo errore frequente utilizzare dei testi molto lunghi noiosi o inutili che parlano solo di quanto siamo belli quanto siamo bravi senza andare a trasmettere quali sono i vantaggi per chi per chi visita il sito considerate che chi visita una pagina web in automatico sempre a livello psicologico si chiede che cosa c'è qui per me quindi e qual è la domanda che non si fa no non si chiede questi sono bravi o no si chiede cosa c'è qui per me quindi prima rispondiamo a questa domanda e meglio è passo molto interessante posso aggiungere posso aggiungere due errori che mi vengono in mente mentre tu parli il primo è creare delle pagine quando non servono mi spiego alcune volte noi magari facciamo il sito vetrina in cui vogliamo parlare di noi come professionista io sono un avvocato e voglio parlarti della mia attività d'avvocato e allora creo la home page e poi faccio la pagina chi sono poi faccio la pagina cosa faccio poi faccio la pagina contatti e in ognuna di quelle pagine metto magari tre righe di tre righe di testo in realtà molto più efficace in alcuni casi mettere tutto nella stessa pagina nell'home page la gente deve solo scrollare verso il basso e hai tutto in un unico punto non tutti si mettono a guardare sempre le sottopagine quindi in alcuni casi molto efficace la monopagina piuttosto che andare nelle sottopagine ovvio che va sempre valutato caso per caso la seconda cosa che non so se è una cosa che magari avresti detto dopo è non guardare il sito web da mobile cioè tante volte visto che noi il sito lo facciamo con il computer perché sul computer che ci mettiamo a lavorare non guardiamo poi come risulta da telefono peccato che oggi la maggior parte delle persone il nostro sito lo usano da telefono e quindi in realtà tu sicuramente Daniele sai il modo di dire mobile first cosa vuol dire nello sviluppo di siti web mobile first vuol dire che tu oggi il sito web lo devi sviluppare per il telefono e poi lo devi adattare al computer e non più viceversa come si faceva una volta quindi nel momento in cui realizzate il vostro sito abbiate sempre la visualizzazione da telefono tra l'altro così ve lo dico al volo se voi andate sempre sugli strumenti di Google Chrome ma questo è valido anche per Firefox e per la maggior parte dei browser avete la possibilità premendo il tasto F12 vi ricordo avete la possibilità di attivare la visualizzazione da smartphone quindi voi cliccate sull'iconcina con lo smartphone e potete guardare il vostro sito web come lo vedreste da computer ma anche come lo vedreste da smartphone addirittura andando a scegliere lo smartphone da cui lo volete guardare potete scegliere un iPhone un Pixel o qualsiasi altra cosa che poi voi potete impostare per conto vostro non ti ho fatto uno spoiler vero Daniele? no anzi ti ringrazio perché gli aggiungerò questi due punti grande adesso passo al tanto atteso esempio del perdonami Simone no il motivo è perché conosco Simone però nel frattempo il sito adesso è offline quindi non penso di fare di fare un torto ecco questa è una pagina è una pagina chi siamo e vedo un paio di vedo un po' di problemi che avevo detto prima cioè questa bella immagine qui di tre persone un po' sfocate che parlano cioè non mi trasmette niente preferirei una foto di loro che mi trasmette che è molto più umana cioè mi fa vedere veramente quali sono le persone dietro a questa attività poi il testo è molto improntato sul siamo bravi siamo fighi e poi il discorso di call to action qui compila il modulo per ricevere le proposte qui sotto compila il modulo per l'ebook qua sotto contatti i numeri di telefono e poi qui non si vede però c'era anche un bel pop up che saltava fuori e diceva lascia la tua email per essere ricontattato cioè tante azioni diverse che alla fine io come utente dico ok che cosa devo fare boh vado via sarebbe molto più efficace mettere solo un'azione se vuoi che scarico l'ebook metti solo quello se vuoi che ti telefono metti solo il numero di telefono quello che dicevo prima molto interessante quindi grazie Simone per averci dato questo bel esempio grazie Simone e quindi quindi che cosa fare beh ogni pagina deve avere una call to action evitare distrazioni ecco soprattutto nelle pagine critiche è capitato diverse volte di vedere degli e-commerce dove tu metti il prodotto nel carrello vai sulla pagina di checkout sei lì che stai tirando fuori la tua carta di credito per pagare e sulla pagina di checkout salta fuori ah guarda il nostro nuovo prodotto ah hai visto il nuovo articolo sconti cose che in realtà mi stanno distraendo da completare l'azione quindi soprattutto soprattutto le pagine critiche dove vuoi che il visitatore faccia una cosa magari importante come come pagare non distrarlo con altre con altre con altre cose ed è ugutino in questo caso anche avere voi le idee chiare su cosa volete dalla vita mi verrebbe da dire dal vostro sito web cioè perché avete fatto un sito perché volete vendere dei prodotti perché volete che le persone vengano nel vostro ristorante perché volete che vi chiamino al telefono perché volete che vi lasciino la mail insomma ogni sito web ha uno o più scopi che devono esservi chiari nel momento in cui lo realizzate esatto e aggiungo anche non bisogna essere esperti di di copywriting essere esperti di UX essere esperti per fare per fare queste cose questi sono delle piccole piccoli suggerimenti che chiunque può può applicare ecco e terzo consiglio io consiglio questo strumento si chiama oddjar.com immagino tu Andrea lo conosca comunque è potentissimo lo conosco non l'ho mai usato però devo dirti guarda permette di vedere esattamente cosa fanno i visitatori sul tuo sito creando addirittura dei video che quando l'ho visto la prima volta sono andato in loop ho iniziato a guardarmeli tutti ci ho perso le ore però in realtà questi video ti danno un sacco di informazioni perché vedi proprio che cosa che problemi possono avere le persone o meglio come usano il tuo sito ora qui ho messo un esempio che se riesco a copy link ok vediamo secondo te strumenti come oddjar ha senso usarli da subito o devo avere un minimo di massa di visitatori perché poi abbiano un senso e mi diano dei dati utili guarda visto che fa una cosa così dettagliata come crearti un video per ogni visita si possono utilizzare si può utilizzare anche quando hai anche se hai poco pochi visitatori anche se hai pochi visitatori anzi cioè se ne avessi tanti visitatori sarebbe veramente un problema richiedere molto tempo aspetta adesso sto cercando di ce la faccio qual è il link il link è questo qua vedo tra l'altro mentre tu lo cerchi io faccio vedere ancora un po' di cose del sito web di oddjar vedo che c'è una versione plus in personal che ha un costo di 29 euro al mese sta partendo adesso io utilizzo quello gratuito ha dei limiti però funziona ecco questo praticamente è il video di una persona che sta completando l'acquisto è alla cassa e ovviamente non si vedono i dati che inserisce nel modulo però si vede come utilizza il modulo e qui se vedi ok va sotto inserisci il numero di carta boh qua molti movimenti è il mouse clicca per effettuare l'ordine però non ha non ha accettato i termini e condizioni e quindi questo mi fa pensare ok forse i termini e condizioni non sono abbastanza messi in evidenza e qui ancora sta completato l'ordine sta inserendo i dati per per attivare il servizio e ecco vedere come vedi va sul sul punto di domanda per capire cosa deve fare si si sposta molto con il mouse è un po' un'indicazione che sta cercando dove andare ecco sono tutti i segnali che ti fanno pensare ok magari come posso migliorare questa pagina per semplificare per semplificarne l'utilizzo ed è lo trovo veramente una miniera di di informazioni affascinante a guardare hai appena ucciso la mia produttività delle prossime settimane sappilo perché spenderò le prossime settimane su hot jar in maniera compulsiva è davvero interessante complimenti grazie è molto carino lo consiglio poi anche un paio di altre funzionalità sempre gratuite come per esempio dare far apparire un piccolo pop up in basso a destra che per raccogliere informazioni dal visitatore quindi è uno strumento carino ora il settimo e ultimo punto è legato a errori di SEO tecnica ora la SEO è un discorso molto molto ampio molto molto basso molto molto ampio dove si potrebbe parlare per ore e ore e dove non sono un esperto nel senso che non sono un esperto di SEO però mi voglio concentrare su quello che ha a che fare con la SEO tecnica cioè lo paragono un po' al togliere il freno a mano alla macchina molto chiaro sicuramente sapete che cos'è la SEO ma specifichiamolo search engine optimization ottimizzazione per i motori di ricerca quindi rendere il sito migliore per Google fare in modo che il vostro sito stia un po' più in alto quando cercano pizzeria Pavia e voi siete una pizzeria di Pavia esatto proprio tenendolo super semplice se vuoi essere ai primi posti per pizzeria Pavia devi dimostrare a Google e ai visitatori del tuo sito che tu sei ti meriti di essere al primo posto e quindi devi avere tanti contenuti che parlano della pizzeria Pavia devi avere un sito ottimizzato per le parole chiave pizzeria Pavia e tutta una serie di lavori come dicevo prima un ambiente una tematica molto complessa però se tu inizi a scrivere articoli delle migliori pizzerie a Pavia inizi a fare tutto un lavoro di ottimizzazione però sotto c'è il freno a mano tirato quindi hai dei problemi di seotecnica non andrai mai da nessuna parte perché appunto come la macchina non si muove col freno a mano tirato il tuo sito ha bisogno di risolvere prima quei problemi di seotecnica molto chiaro ed errori comuni allora l'utilizzo di permalink cosa sono i permalink è proprio l'url quindi l'indirizzo della pagina ora in realtà questo si vede meno e meno però controlla che il tuo sito utilizzi dei nomi per le pagine che abbiano un senso cioè la pagina chi sono dovrebbe avere un indirizzo che contiene la parola chi sono non cose tipo punti di domanda numeri e cose che hanno poco senso perché l'url è un parametro importante che indica a google di che cosa parla la pagina questo è super facile da impostare in wordpress tra l'altro forse tu ce l'hai un wordpress aperto vero? perché io dovrei aprirlo sì allora vado direttamente era aperto anche tu usi usi com'è che si chiama quella quella estensione tab qualcosa tab buddy non mi ricordo più il nome sì dopo un po' spegne i tab per non utilizzare memoria ah the great suspender ecco ah the great suspender giusto quindi se voi andate nelle impostazioni del vostro wordpress e andate su permalink e aspettate che il vostro sito carichi appunto dopo tutto il discorso di velocità eccetera beh qui siamo nel dietro le quinte ecco quello che voi dovete andare a impostare diciamo non succede più spesso però ecco se avete se l'impostazione semplice è quella che mette dei numeri strani che sono poi il numero identificativo della pagina se si mette una come quella preferita sarebbe nome articolo dove appunto utilizza il titolo dell'articolo per creare per creare la url quindi se non sapete dove mettere le mani cliccate su nome articolo nome articolo e poi salvate ovviamente giusto super vai 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 ma sconsiglio anche di utilizzare data data e nome perché la data poi diventa una cosa che potrebbe potrebbe essere un segnale negativo cioè se se arrivo su un sito per leggere un articolo e trovo che la data è di tre anni fa automatico un po' l'impressione che quell'articolo è vecchio anche se magari nel frattempo è stato aggiornato quindi sconsiglio cioè il nome articolo è anche il modo più facile da memorizzare da ricordare sono diverse pagine del sito di WPOK che ti posso dire l'indirizzo perché me lo ricordo a mente perché abbiamo dato dei nomi facili da ricordare molto chiaro e se puoi andare velocementissimamente sul singolo articolo volevo far vedere anche dove trovano l'url dell'articolo proprio una volta che lo hanno scritto ok giusto per fare servizio completo sai che a me piace dare proprio tutte le informazioni possibili aprine uno qualsiasi questo qui è un articolo tra l'altro su comprare vendere siti è anche quello interessante è un mondo super interessante tu hai fatto tanti contenuti quindi invito tutti ad andare a guardarli tu sei nella nuova interfaccia di wordpress sì questo qui è il famoso Gutenberg è Gutenberg ecco non mi veniva il nome e dove vai a vedere il permalink l'url clicchi in alto a destra sui pallini aspetta che devo prima togliere la la visualizzazione ok su documento permalink eccolo lì permalink adesso è impostato su comprare siti giusto perché volevo qualcosa di facile da ricordare che se devo scriverlo è facile ricordare però è anche indicativo dell'argomento di cui parla l'articolo molto chiaro quindi rotellina delle impostazioni dell'articolo e andate lì su permalink se avete ancora la vecchia versione di wordpress invece lo trovate direttamente sotto al titolo trovate già il permalink per cui non è difficile da andare ad individuare ok possiamo procedere ok poi un'altra un'altra errore comune è il discorso dell'asseo delle immagini cioè anche le immagini dando indicazioni a google di quello di cui parla l'articolo e la pagina un errore comune vedo persone che scaricano i file delle immagini magari dalla macchina fotografica e hanno dei nomi criptici quindi è molto meglio rinominare l'immagine in qualcosa che abbia un senso per quell'articolo lì quindi se faccio un articolo che parla di supporto wordpress caricherò un'immagine che si chiama supporto wordpress è con qualcosa di significativo molto chiaro e la terzo errore è utilizzare troppe categorie tag c'è un utilizzo dei tag che è come instagram o twitter cioè più hashtag metto e meglio è perché lo vedono più persone in realtà con wordpress assolutamente non è così perché più categorie creiamo più tag e più pagine di archivio per queste categorie tag vengono create quindi se tu è molto meglio avere pochi tag poche categorie però con tanta sostanza con tanti articoli su quegli argomenti lì rispetto ad avere tanti tag che hanno un solo articolo e questa è una cosa sì evitate di utilizzarne di utilizzarne troppe non dà nessun nessun vantaggio anzi porta svantaggi perché aumenta il numero delle pagine però sono pagine molto meno potenti con molto meno contenuto chiarissimo poi l'ultimo immagini in evidenza per i social cosa intendo intendo che su ogni articolo in wordpress è possibile indicare mettere qui un'immagine in evidenza questa immagine viene utilizzata sia all'interno del blog che poi quando si va a condividere la pagina all'interno dei social e se non impostiamo un'immagine i social come facebook prenderanno la prima la prima immagine che trovano all'interno della pagina che potrebbe spesso non è quella che vorremmo mostrare noi a volte solo tipo l'icona di un social network cose assolutamente che non c'entrano nulla sì quindi su tutte le pagine consiglio di creare tra l'altro utilizzando canva dove tu hai appena fatto un tutorial molto dettagliato diventa veramente veloce creare un'immagine carina da associare a ogni articolo e pagina vero vero canva.com è il servizio se volete andare ad esplorarlo poi vi linkiamo anche il tutorial che ho realizzato quindi cosa fare per iniziare un po' con la SEO tecnica a partire col piede giusto io consiglio il plugin Yoast SEO è un plugin estremamente conosciuto estremamente popolare che già si prende cura di migliorare la SEO tecnica di diversi aspetti della SEO tecnica poi il discorso dei permalink che abbiamo visto il discorso delle immagini quindi scegli un nome descrittivo utilizza quello che viene chiamato testo alternativo e qua posso far vedere ci sarà un'immagine qui c'è un video però se clicco qui c'è questo testo alternativo per ogni immagine va specificato a mano un testo alternativo che spieghi comunque sia relativo a quello di cui parla l'immagine molto chiaro poi collegarsi a search console di cui abbiamo parlato prima anche questo è importante perché se c'è un problema di indicizzazione di errori sul sito di pagine che hanno dei problemi Google ti notifica su search console limitare appunto tag e categorie la regola è pochi ma buoni e tenere un occhio su HTTPS e velocità perché sono dei parametri delle cose che comunque influiscono la SEO tecnica molto molto chiaro e questo Daniele mi sa che era l'ultimo errore da evitare questo è l'ultimo errore da evitare qui ho messo un sommario di strumenti plug-in di cui abbiamo parlato poi ti passo l'elenco così se vuoi metterlo nelle note della descrizione del video ovviamente si fa e poi niente due altre cose io appunto per aiutare chi ha un sito wordpress e non è pronto comunque non ha non vuole delegare la parte di gestione ho creato un corso wordpress che è disponibile su Udemy adesso se vedete questo video fra 10-15 anni spero che sia ancora disponibile questo corso e spero di aggiornarlo nel frattempo o magari infatti lo aggiorniamo insomma se lo trovate nelle note del video vuol dire che c'è ancora ok sì è un corso dove si va un po' più nel dettaglio di tutti gli aspetti anche un po' pratici di come impostare le come fare la manutenzione wordpress questo è interessante perché potremmo potremmo considerare magari questo video un po' quasi come l'introduzione di quel corso perché alcune cose che qui abbiamo un po' toccato così in maniera veloce li si vanno ad approfondire nel dettaglio sì ecco spero che comunque da questo video spero che potete evitarvi qualche errore o qualche problema e qualche mal di pancia magari appunto legato ai backup o alla sicurezza insomma qualche cosa portate a casa qualche spunto per mettere al sicuro il vostro il vostro lavoro e quello che fate con wordpress questo è il blog di vpok stiamo spingendo forte sui contenuti stiamo pubblicando diverse cose quindi sia sul discorso di sicurezza che più legati a casi studio o domande a degli esperti quindi anche questa può essere una risorsa e con questo sono arrivato alla fatidica ultima slide per ringraziamento quasi mi dispiace essere arrivati alla fine mamma mia che che videone che tutorialone guida super completa davvero grazie caro Daniele è stato preziosissimo quello che che ci hai raccontato e sono sicuro che è stato un tesoro per un sacco di persone che l'hanno seguito grazie a te Andrea e spero lo sia stato senti io ti ringrazio ancora tanto super fortissimo ti mando un bel abbraccio lo mando a coloro che hanno guardato fino adesso se avete dei dubbi i contatti di Daniele li avete visti c'è la sua mail e lo trovate anche su Telegram idem anche nel mio caso mi trovate su Telegram per cui se possiamo in qualche modo esservi utili contattateci seguite i progetti che stiamo portando avanti ancora un abbraccio fortissimo e alla prossima ciao a tutti buona manutenzione ciao a tutti Grazie a tutti.